Il prossimo 26 ottobre alle 21.15 presso il Cine Teatro Divina Provvidenza di Porto Potenza Picena ci sarà un convegno dal titolo Nuovo Radar e Campi Elettromagnetici. La storia rischi per la salute e le iniziative organizzato dall'Associazione Città Prestata. L'associazione nasce per perseguire attività di utilità sociale e valenza collettiva e mette al centro delle questioni la persona umana e i suoi diritti. Oltre alla salvaguardia dell'ambiente naturale e dei territori in cui svolge la propria vita. Qui con noi abbiamo Sauro Gattafoni dell'Associazione Città Prestata. Innanzitutto qual è il motivo di questa assemblea di venerdì? Principalmente è quello di rendere consapevoli i cittadini di Potenza Picena e dei comuni limitrofi nonché anche delle istituzioni locali riguardo alla problematica del radar ai rischi soprattutto per la salute a dipendenti dalla stazione radar di Potenza Picena. Da dove nasce il vostro timore legato appunto alla presenza del radar? Nasce da una serie di indagini, di ricerche fatte in passato ma anche che si stanno svolgendo tuttora oggi e che mettono in evidenza purtroppo una elevata percentuale di patologie superiori alla media. Parliamo di tumori, ictus, infarti, morbo di Crohn, bambini nati con patologie congenite con un'incidenza anche di decine di volte superiore alla media. E questo ci preoccupa molto. Come si articolerà la serata di venerdì? La serata di venerdì nasce per raccontare questa incredibile storia di Potenza Picena per raccontare del radar, delle misurazioni fatte, delle indagini epidemiologiche che sono state fatte sul nostro territorio. Nasce anche per spiegare quali sono le ricerche in corso che sta portando avanti il dottor Marinelli dell'Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Bologna proprio su Potenza Picena. Il dottor Marinelli che sarà poi ospite della serata e potrà anche discutere con i presenti? Sì, certamente. Il dottor Marinelli è ospite e anche il relatore. Spiegherà in maniera, speriamo, chiara un po' a tutti quanti i cittadini che cosa si sta facendo sul nostro territorio, sia sotto il profilo di questa sperimentazione e poi parleremo anche delle possibili iniziative che potremmo intraprendere per cercare di fare chiarezza e risolvere questa situazione. Fare chiarezza e soprattutto sensibilizzare anche le istituzioni affinché questo problema possa essere, se non risolto, almeno arginato? Senz'altro, le istituzioni sono di primaria importanza per riuscire ad ottenere dei risultati che ci speriamo vengano. Bene, allora l'appuntamento è per venerdì 26 ottobre alle 21.15. Noi ringraziamo Sauro Gattafoni, io ringrazio voi per averci seguito, vi do appuntamento all'edizione di...